Eccoci quindi nella parte dedicata alla nostra brochure, alla nostra presentazione, al nostro listino, insomma a quello che noi facciamo vedere ai nostri clienti e quello che magari gli consegniamo e gli lasciamo in maniera tale che loro possano prendere una decisione. Come è facilmente intuibile questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme, quindi se vedete che vi manca qualche nozione andate a vedervelo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Innanzitutto la prima cosa da inserire è una nostra presentazione, una presentazione che dovrà comunicare ok l'attrezzatura che abbiamo eccetera però un abbio credibile su di noi perché infatti le coppie ci sceglieranno in base al tipo di persona che siamo, più che per l'attrezzatura oppure quello che abbiamo fatto nella nostra carriera da videomaker, quindi è importante avere una presentazione strutturata, un abbio che sia credibile e che ci faccia valorizzare agli occhi dei nostri sposi. L'ideale sarebbe che questa presentazione sia coordinata, non sempre la stessa magari, ma sia coordinata sia con questa presentazione che vi date agli sposi ma anche sulla vostra pagina Instagram, sul vostro sito, sulla vostra landing page, insomma che sia coordinata e che vi dia credibilità come persona. Ovviamente anche delle immagini che siano accattivanti come potete vedere uno stile che sia riconducibile a quello che è il mondo wedding, se lo avete un logo come potete vedere che abbiamo messo qui, delle immagini accattivanti e i vostri contatti sin da subito qui. Dopodiché quello di cui dobbiamo andare a parlare sicuramente, e lo vediamo già qui, è il discorso economico, quindi inserire i prezzi dei vostri servizi, perché giustamente prima o poi ci dobbiamo arrivare, potete metterlo subito, potete metterlo dopo, ma prima o poi li dovrete inserire. E questo ci porta a un altro argomento che esce un po' fuori da quella che è la brochure in generale, ma che è fondamentale. Quindi come stabilire il prezzo di vendita? Sicuramente è da fare sulla base della tua esperienza, quindi il tuo portfolio, quanto sei oggettivamente bravo e soprattutto quanto sei bravo rispetto ai competitor. Quello che potete fare è una ricerca dei vari wedding videographer che ci sono in zona, chiedendo anche dei preventivi, chiaramente in maniera un po' furba da spionaggio industriale, se vogliamo, insomma capire a quale prezzo loro si propongono e fare un attimo un parallelismo rispetto a loro in maniera tale da capire a che prezzo voi potete uscire. Un altro elemento da tenere in considerazione per realizzare una quotazione giusta è sulla base della vostra clientela, quindi dovete individuare il target al quale vi state rivolgendo ovviamente. Quindi lavorando con coppie che arrivano dall'estero, si sposano in Italia, avranno chiaramente un alto budget e saranno quindi alto spendenti rispetto magari a una coppia giovane, un po' più umile, con risorse finanziarie ridotte perché sono all'inizio. Quindi dovete tararvi un po' in base a chi avete di fronte. Un ottimo modo quindi per individuare il budget, oltre che basarsi sulla coppia, è anche capire magari dove sarà il ricevimento, quanti invitati saranno, chiaramente se lo fanno in una pizzeria con 5 persone sarà un matrimonio di scarso budget. Se invece avete degli invitati che si sposano al lago di Como e hanno affittato una palafitta per realizzare diciamo soltanto gli scatti, quindi vuol dire che c'è molto più budget. Infine quindi dovete creare un prezzo sulla base anche di quanti matrimoni state facendo e quindi di quanto siete impegnati. Facciamo un altro parallelismo con Airbnb, bisogna sempre considerare l'occupazione delle date che avete. Quindi chiaramente se il vostro calendario è totalmente vuoto, nonostante voi abbiate fatto tutte le mosse possibili per raggiungere gli sposi eccetera, probabilmente comunque il prezzo è troppo alto e quindi non state vendendo. Viceversa se siete pieni di date allora forse dovreste iniziare ad alzare un po' i prezzi per quindi massimizzare e anche un po' scremare il numero di coppie che arrivano e quindi prendere soltanto dei lavori alto spendenti. Ok? Questa cosa è importantissima e fondamentale perché come avevo detto il videomaker di matrimonio lavora a data e quindi lavorando a data voi non potete pensare sul vostro calendario i matrimoni. Quelli sono e quelli saranno sempre. Quindi bisogna individuare il prezzo giusto di vendita di ogni matrimonio e quindi anche di conseguenza il proprio servizio perché è un qualcosa di individuale. Ok? È un qualcosa di personale che va sviluppato tenendo conto degli aspetti che abbiamo detto prima. Quindi se hai bisogno di creare magari più portfolio o di fare esperienza allora puoi lavorare sul prezzo quindi puoi andare ad essere più accattivante perché ti aiuterà comunque ad avere un lavoro e quindi avere il tuo portfolio. bisogna anche però rendersi conto che questo processo non può essere infinito. Cioè altrimenti dopo tre anni siamo ancora lì a cercare di ottenere il reference quindi bisogna creare un portfolio nei limiti di quello che possono essere le tempistiche che avete a disposizione di non prolungarsi troppo nel tempo. Un'altra cosa fondamentale è anche individuare quali sono le vostre coppie di riferimento. A cosa mi riferisco? Se voi volete realizzare soltanto matrimoni con gente giovane, begli sposi dovete anche un attimino andare a catturare quel tipo di clientela. Quindi non dovete farli scappare. Quindi a cosa mi riferisco? Se avete una coppia di cinquantenni che non rispecchiano, che vogliono magari un matrimonio posato, un matrimonio vintage, che non rispecchi il vostro modo di lavorare, non è detto che voi non lo dobbiate prendere però dovete cercare di massimizzare quello che è il lavoro. Se invece avete una coppia giovane che si sposi in una bella location, magari dove non siete mai stati, che volete assolutamente all'interno del vostro portfolio, beh allora quello è il caso magari di effettuare un piccolo sconto o comunque di cercare di catturarli il più possibile e di prendere quella data perché vi sarà utile. Quindi è un investimento che voi fate per il vostro portfolio, per la vostra attività che è quella che siete voi. Un'altra cosa fondamentale è quella di, ok, giochiamo sul prezzo, ci prendiamo il matrimonio che ci piace a livello di coppia, a livello di location, a livello di tutto, però poi dobbiamo essere sicuri di poter utilizzare il materiale, quindi lo prendete ma poi dovete poterlo utilizzare, quindi fate attenzione anche a questa cosa qui. Poi mi raccomando siete umili, quindi non proponetevi a 2000 euro a servizio, se il vostro servizio non vale 2000 euro, quindi per esempio se non avete mai fatto un matrimonio, avete fatto soltanto delle immagini carine, belle, impostate con i modelli, però poi non siete all'altezza di gestire un matrimonio intero. Quindi cercate un attimino di capire qual è il reale valore per il settore al quale vi state proponendo e non ingannate le coppie, perché se voi siete in grado di fare le immagini posate, è bello che è, ma poi durante il matrimonio, con la pressione, con tutto, girate fuori il fuoco, con il bilanciamento sbagliato e tutto il resto, avrete dei feedback negativi che sono la peggiore cosa che si possa avere nel nostro settore, anzi mi viene da dire in qualsiasi settore. Quindi attenzione, sempre credibili e sempre corretti in quello che si propone. Come potete vedere il nostro pacchetto qui ha subito un video reference che si può cliccare, chiaramente tutto quello che vedete qui ragazzi, dai prezzi, dalle descrizioni, dai servizi inclusi, sono di prova, sono di test, sono realizzati in maniera tale da essere facilmente compresi da chiunque. In ogni caso abbiamo subito un video reference, perché la cosa fondamentale è quella di avere un video reference, ma ne parleremo anche più avanti. Servizi inclusi, descrizione e costo di più pacchetti, perché come potete vedere noi qua abbiamo più pacchetti, quindi abbiamo il pacchetto quello diciamo più premium, il pacchetto di cui hai bisogno, il pacchetto medio e il pacchetto starter. Quindi sono tre pacchetti, adesso andiamo a vedere un po' le differenze che ci sono e il perché abbiamo deciso di strutturare tutto in questa maniera qui. Quindi perché è fondamentale avere più pacchetti? Allora partiamo dal presupposto che il pacchetto, che può essere quello premium, quello medio, quello avanzato, ma il pacchetto principale deve essere quello che vi dà il maggior margine di guadagno. Quindi questo deve essere la prima regola che noi dobbiamo tenere a mente, quindi voi dovete massimizzare sul pacchetto che è più remunerativo in termini di guadagno sottraendo i costi. Infatti noi possiamo comunque mettere degli altri servizi, però dobbiamo essere sicuri innanzitutto di poterli eseguire in totale autonomia, però che non siano dei servizi che ci danno dei costi in più, perché altrimenti non ha senso puntarli. Quindi noi dobbiamo concentrarci su quello che possiamo erogare al netto dei costi. Facciamo un esempio pratico, se siamo un videomaker che opera generalmente da solo e non abbiamo una collaborazione fissa con un altro operatore video, forse non è consigliato mettere come prima opzione o come opzione vantaggiosa per il cliente il doppio operatore. Perché giustamente noi siamo da soli, dobbiamo chiamare qualcuno, quella persona non c'è, per noi sicuramente avrà un costo. Quindi bisogna realizzare sempre i pacchetti con le cose incluse che ci portano guadagno. Quindi nel vostro caso, se magari siete all'inizio, chiaramente voi dovete mettere dei costi molto alti per i pacchetti con più servizi, come per esempio il drone, il secondo operatore, la proiezione. E un costo più accessibile per il solo operatore, perché è quello su cui massimizzate chiaramente di più. Quindi immaginiamo di avere i tre pacchetti, che sono il pacchetto, come potete vedere qua, starter, il pacchetto medio e il pacchetto di cui hai bisogno, quindi il premium, il pacchetto base. Quindi il pacchetto base come funziona? Una scelta economica con servizi essenziali, ideale per i clienti con un budget limitato, quindi questo pacchetto potrebbe includere per esempio soltanto l'operatore e il drone. Quindi questo qua è un pacchetto ad un costo molto basso, per esempio noi facciamo così, un pacchetto che generalmente va bene per chi non ha budget, però difficilmente viene selezionato, ok? Perché è un pacchetto che ti dà veramente poco. Se ti rivolgi a noi vuol dire che vuoi un qualcosa di più, no? Di un po' più cinematico, di un po' più professionale. Se viene preso questo pacchetto, comunque è un pacchetto che ci impegna poco, perché impegna soltanto una persona e quindi va bene. Dopodiché abbiamo il secondo pacchetto, che è quello intermedio. Il pacchetto intermedio, ma questo proprio nel marketing generale e nella vendita, si chiama il pacchetto ESCA, il prodotto ESCA. Ovvero questo pacchetto offre più del pacchetto base, perché infatti qua abbiamo reportage con doppio operatore e drone, quindi abbiamo un qualcosa in più, ma non troppissimo, ad un prezzo che è molto maggiore rispetto a quello di prima. Vedete, abbiamo una differenza, qua sempre i prezzi, ragazzi, sono indicativi, sono inventati, però prezzo 170 euro a confronto di 50 euro chiaramente è parecchio sbilanciato, ok? E quindi giustamente uno non prende in considerazione il pacchetto medio se è indirizzato verso lo starter pack, ok? Questo è un po' il concetto, quindi non fare prendere il pacchetto da 50 euro, non fare prendere il pacchetto da 170, ma fare prendere quello da 200 euro, e il pacchetto di quei bisogni in cui ci sono molti più servizi, vedete, rispetto al pacchetto medio in mezzo. Quindi pacchetto medio ha reportage video doppio, operatore, drone, che è poco di più rispetto a quello da 50 euro, quindi tra i due prendo quello da 50 euro, però se metto in confronto questo pacchetto da 170 con quello da 200 euro, chiaramente qua ho molto di più, perché ho il doppio operatore, il drone, il save the date, la proiezione e il prematrimoniale. Quindi il concetto qual è? Il concetto è che voi dovete fare tre pacchetti, chiaramente per spingere quello di cui potete massimizzare di più, questo è in dubbio. E dovete fare in modo che le cifre di questi pacchetti, che chiaramente dovete calcolarvi in base alle spese che avete, in base ai costi e tutto quanto, e qua sono degli esempi, però dovete fare in modo che il pacchetto, in questo caso premium, sia un pacchetto che a parità di costo offra molto di più rispetto al pacchetto medio. Questo cosa vuol dire? Che tra il medio e il premium sceglierò sicuramente il premium, perché mi dà molte più cose per 30 euro in più, e ovviamente se sono interessato a spendere poco non guarderò questi due e probabilmente mi prenderò lo starter pack, che però ha molto meno, molte meno cose e ci impegna meno con un costo minore. Quindi questo è il concetto. Chiaramente ci tengo a ribadire, sono cose indicative, prezzi indicativi, servizi indicativi, perché qua giustamente ci sono più persone, c'è il save the date, giornate in più, però è per darvi un'idea. Voi dovete sicuramente sempre spingere quello che vi massimizza di più in termini di costo, e questa strategia è usata ovunque, no? Cioè è pieno di video online sulla vendita, eccetera, però bisogna applicarlo anche in questo caso. Inoltre la cosa fondamentale ragazzi è che per ogni pacchetto ci deve essere un video che dimostra quello di cui voi siete fieri, di cui voi vi vantate, un bel video, un qualcosa che però voi potete erogare, con cui avete dimestichezza, e soprattutto che ci sia una netta differenza tra un video e l'altro, ok? Quindi se voi avete un video doppio operatore, ma stranamente quel video è venuto standard, normale, nulla di che, e un video magari un singolo operatore che se siete stati bravissimi, avete catturato tutto, ed è più bello quello, chiaramente capite che poi alla fine è quello che uno va a vedere, dice ma perché devo spendere di più quando è risultato uguale, quindi questo non vuol dire di mettere un lavoro peggiore, però voi dovete essere in grado di dimostrare in maniera chiara e inequivocabile visivamente la differenza tra un pacchetto e un altro. Quindi con reference che avete, con esperienze che avete fatto, su cui siete confident, e quindi mi raccomando non giochiamo a mettere il più roba possibile per prendere lavori, ok? Voi dovete, dobbiamo far vedere quello di cui siamo capaci e che sia differenziato per ogni pacchetto. La cosa fondamentale è quindi creare dei pacchetti, quindi più che un listino è quello di creare dei pacchetti. Perché? Perché noi ovviamente alla fine abbiamo il nostro listino servizi, vedete dove abbiamo tutti i nostri prezzi. Questo perché? Perché difficilmente gli sposi prenderanno un pacchetto così fatto e finito. Ognuno vorrà magari qualcosa in più, qualcosa in meno. Quindi è giusto far capire al cliente, in questo caso, quali sono i costi per i singoli servizi, che hanno un vantaggio comunque acquistando un pacchetto rispetto al servizio singolo, ma devono essere consapevoli dei costi che questi singoli servizi hanno. Cosa fondamentale, importantissima, è far capire quindi al cliente quanto costa il vostro servizio base, sul quale poi noi andremo ad opzionare tutti gli altri servizi costi e accessori. Quindi così, nel caso in cui il pacchetto non andasse bene, ci siano delle variazioni, il servizio base vostro è sempre chiaro ed evidente. Chiaramente poi ragazzi ogni costo è soggettivo e anche le modalità con le quali voi vi volete approcciare al mondo dei matrimoni. Perché ci sono tante variabili durante un evento del genere, quindi dobbiamo decidere sin da subito come vogliamo impostare il tutto. A cosa mi riferisco? Potete scegliere di fare un prezzo a forfè, quindi per tutto il giorno, indipendentemente da quando finirà l'evento, oppure stabilire già da subito degli extra orari, esempio. Oppure potete ragionare a singolo montaggio o a minutaggio, quindi più è lungo il trailer, più pagherai il servizio. Se vuoi video da 10 minuti, se vuoi 10 short, pagherai di più. Ecco, ci sono queste variabili. Quindi sta a voi decidere di comportarvi come meglio credete. Il mio consiglio è quello di andare sempre a realizzare dei prezzi a forfè, che siano comprensivi di tutta la giornata. Quindi voi dovete avere la libertà di poter dire agli sposi quando ho tutto il materiale, prendo e me ne vado. Chiaramente questo può complicare anche la situazione, perché giustamente se la festa si protrae, voi potreste dovervi trovare a lavorare più ore del dovuto. Però questo sta a voi, nel senso sta a voi capire se vale la pena l'investimento di essere delle persone disponibili, delle persone che si mettono a disposizione dell'evento, oppure delle persone che pensano solamente al profitto. Sono due scelte legittime che vanno rispettate. Chiaramente bisogna però anche essere fermi e rigidi ed evitare di farsi prendere in giro e quindi giustamente essere sempre tutelati, quindi con magari delle diciture, delle postille in fase di contratto che vi possono aiutare a sgravarvi in casi molto particolari. Chiaramente noi stiamo sempre parlando, ragazzi, come single videomaker. Se poi c'è una struttura dietro, con più persone che gestite, quindi che avete più operatori che mandate ai matrimoni, allora qui sicuramente si vanno a creare dei costi, perché non siete più voi stessi che erogate il servizio, ma sono dei dipendenti, dei collaboratori con partite IVE, quindi giustamente lì è utile definire bene quali sono i limiti di orario per non magari mettervi in una condizione di dover pagare di più per delle ore che sono state fatte in maniera gratuita. Un'altra cosa fondamentale di cui bisogna sempre tenere conto al fine di poter uscire col giusto prezzo è quello della gestione dei costi di trasferto. I costi di trasporto variano in base alla location del matrimonio, chiaramente, oppure alla casa degli sposi. Quindi dobbiamo specificare chiaramente se questi costi sono inclusi nel prezzo oppure se devono essere rimborsati a chilometraggio oppure ancora se ci sarà anche lì un forfè per quanto riguarda le spese. A volte infatti può essere persino necessario soggiornare in un Airbnb o in un hotel, quindi tutti i costi che dovrete affrontare a livello logistico devono sempre essere presi in considerazione ed essere chiari nel preventivo sin dall'inizio. Quindi che siete con un fotografo, che siete da soli oppure che conoscete la coppia, insomma non fa differenza. La cosa fondamentale è inserire nella dicitura che i costi di trasferta non sono inclusi nel prezzo e comunque nel servizio. Oppure ancora potete garantire gli spostamenti fino a un tot di chilometri, quindi avete un raggio sulla vostra città, prima cintura, seconda cintura, dopodiché c'è un costo che va al chilometro. Quindi per concludere, definire il prezzo dei tuoi video matrimoniali richiede un'analisi attenta della tua esperienza, del tuo portfolio, della tua clientela e della tua disponibilità. Comunica sempre chiaramente con le coppie e personalizza le offerte in base alle loro esigenze. Sì trasparente sui costi aggiuntivi e cerca sempre di mantenere un equilibrio tra qualità e prezzo. Ragazzi il video finisce qui, vi ricordo che questa lezione è un estratto di un videocorso molto più completo che abbiamo fatto, quindi nel link trovate i riferimenti per andarlo ad acquistare. Sono sempre molto interessanti i nostri corsi che vi aiutano proprio nel mondo lavorativo e in maniera pratica a poter approfondire la professione. In ogni caso io vi ringrazio, vi invito ancora ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina perché per noi è molto utile. Ciao ragazzi!